Ciao a tutti, io sono Valentina, alias Tondamente, e oggi parliamo di dove trovare calze e collant curvi e plus size. Non so voi, ma per me la ricerca di calze e collant che mi stiano, e mi stiano bene, non finisce mai. E' praticamente una ricerca costante, e ogni inverno, ogni autunno-inverno, mi impegno molto per cercare di trovare il collant perfetto, quello giusto per me. E poi anche quello giusto per voi, in un certo senso, che seguite questo canale. Quel collant che non pizzica, che non tira, che non si sfila solo a guardarlo. Quel collant che riesce a contenere tutte le nostre cosciotte tornite, e non solo, anche il nostro posteriore, e l'interno coscia pure, che è un altro punto particolarmente critico. Eh sì, le ciccette dell'interno coscia sono ormai una leggenda, tutte noi le conosciamo bene, e sappiamo che spesso le infide calze non adatte a noi, si vanno a sfilare o a bucare proprio lì, provocando così un attrito fastidioso, addirittura dei tagli a volte sulla pelle, e quando si torna a casa, sono dolori. Perciò bisogna cercare un collant che sia pensato e studiato appositamente per la nostra tipologia di fisico. Un collant che non stringa e non stressi, come diceva una famosa pubblicità. E anche che non si arrotoli. Ecco, questa cosa me l'ero dimenticata. Ehm, almeno questo vale per me, che sono particolarmente bassa, però porto una taglia plus size. Mi capita, quando becco il collant della taglia giusta, che però sia anche chilometrico, cioè pensato per essere messo da una che ha le gambe lunghe due metri. E chiaramente poi su di me si va ad arrotolare e scende, con un effetto terribilmente antiestetico. Personalmente sono anni ormai che conduco ricerche in questo senso, perché sì, è una vera e propria ricerca. Io mi sento la Indiana Jones delle curvie e delle plus size, che va a scoprire sempre cose nuove e interessanti. Alla fine della mia ricerca, che comunque non finisce mai, anche perché poi, grazie al cielo, c'è sempre una maggiore attenzione nei nostri riguardi, e quindi ultimamente, ogni anno, se ne vedono di nuove e questo non può che farci piacere. Però allo stato attuale delle cose, nella mia ricerca, ho selezionato quattro negozi, che secondo me sono validi, dove poter reperire calze e collant della nostra taglia. Due di questi negozi sono udite udite italiani e due invece sono stranieri. Facciamo uno e uno, va? Così non facciamo preferenze. Allora, partiamo da un e-commerce, un negozio online italiano, che è Calzitali, dal calzificio Schinelli. www.calzitali.com Su Calzitali, sul loro sito internet, troverete una vera e propria sezione, tutta dedicata al mondo curvi. Molto interessante. In particolare, la sto sfogliando adesso per voi, abbiamo Collant Curvy Taglieforti 20 DEN, Collant Curvy con dei ricami particolari 20 DEN, abbiamo i 40 DEN, abbiamo addirittura i leggings curvy taglieforti in microfibra. E questi prodotti io li ho provati personalmente, perché in passato ho collaborato con questa azienda e vi dico che sono ottimi e che la vestibilità ha una capienza eccezionale. E poi, nella sezione curvi di Calzitali, troverete anche alcuni prodotti di intimo modellante taglieforti, culotte, pantaloncini, però poi di questo magari parleremo in un prossimo video qui sul canale della vostra amata Tondamente, che è perché voglio proprio realizzare uno speciale sull'intimo modellante contenitivo. Comunque, ce n'è, ce n'è. Su Calzitali trovate veramente tanti Collant e anche leggings, che secondo me vestono tranquillamente anche fino a una 62, forse persino una 64. Non tirano, sono morbidi, comodissimi, nel senso che non mi tiravano sull'interno coscia, che è una cosa che a me i Collant fanno spesso. Invece devo dire che sono quelli che utilizzo probabilmente di più. I prezzi, parliamo anche dei prezzi, giustamente. Allora, io vi dico che, per esempio, un Collant taglieforti 40 den, in questo momento è in offerta a 5,75€. Mi sembra un buon prezzo, originariamente 7,95€. Il 20 den, 7,65€. Se poi spendete più di 30€, avete anche le spese di spedizione gratuite sul sito di Calzitali. Perché poi, in realtà, su questo sito troverete tantissimi prodotti, anche che nulla hanno a che fare col mondo curvi. Calzini, fantasmini e sottopiedi, gambaletti, parigine, ma anche autoreggenti. Queste, però, normotaglia. Però c'è anche la sezione uomo, quindi magari potete comprare, che ne so, per vostro marito, il vostro compagno, la sezione bambini, la sezione sport. Quindi, se riuscite ad arrivare a 30€, potete anche usufruire delle spese di spedizione gratuite. Penso che Calzitali possa essere veramente una bella scoperta. Se non lo conoscete ancora, andate a scoprirlo. Ed ora, parliamo di un sito britannico, un sito inglese, Donatellas. Sul sito di Donatellas, trovate un'ampia varietà di calze e collant, curvi e plus size, anche molto particolari. Infatti, a differenza del precedente sito che vi ho consigliato, qui abbiamo un maggiore stile, una maggiore attenzione alla moda del momento, alle fantasie, ai ricami particolari. Cioè, sono dei collant un pochettino più sfiziosi rispetto ai classici, basici. Ci sono anche quelli, eh, i classici, basici. Però, ad esempio, ci sono le calze effetto pizzo barocco, che sono spettacolari. Ci sono calze di tantissimi colori diversi. Quelli che hanno il disegno sulla coscia effetto jarrettiera. Qui, oltretutto, vendono anche le autoreggenti plus size. E arrivano addirittura alcuni modelli fino alla 7XL. Sono calze molto capienti e, come vi dicevo, molto particolari. Un'altra particolarità del sito e dell'offerta di Donatellas è che c'è una sezione tall plus e una sezione petite plus, che si rifà proprio al discorso che vi ho fatto prima, dell'arrotolamento. Se siete alte e vestite una taglia plus size, la sezione tall plus, che tradotto dall'inglese significa alto più, cioè la sezione non solo dove c'è la taglia plus size, ma anche dedicata alle donne alte. E, al contrario, se siete basse come me, la petite plus sarà perfetta per voi. Naturalmente spediscono in Italia e trovate questo e-commerce all'indirizzo www.donatellas.com Ma torniamo in Italia con Personal Size, il cui motto è Be Unique, Be Personal, si unica, si personale. Personal Size si ripropone di proporre delle taglie addirittura personalizzate per ognuna di noi. Infatti, il sito, che è molto interessante, sostanzialmente dice che basterà inserire le proprie misure per essere reindirizzate ai collant che hanno la misura giusta per noi. Qui dice che tutti i collant di Personal Size sono fatti in lycra exceptional, hanno il cinturino comfort che non stringe in vita ed una fascia protettiva rinforzata nell'interno coscia. E questo, ecco, era uno dei problemi che io ho sempre riscontrato con i collant e con quelli di Personal Size, finalmente non mi trovo più i buchi in mezzo. Hanno una gamma completa, un vasto numero di modelli, anche in questo caso, promettono che ogni donna troverà il proprio prodotto su misura dalla qualità 100% made in Italy. Allora, allora, misure personalizzate. Per trovare il proprio prodotto su misura è sufficiente inserire nell'apposito configuratore altezza, giro fianchi, giro coscia e giro polpaccio. Il risultato sarà un articolo studiato appositamente sulle forme del proprio corpo, un vero modello personalizzato per valorizzare la silhouette senza comprimerla. Sto leggendo dal loro sito. E quindi vi basterà inserire le vostre misure. Anche sul sito di Personal Size, che è www.personalsights.it, trovate vasta scelta. Andiamo dai collant classici, addirittura si parte dagli 8 den, passando per i 15, 20, 40, 60 den, fino addirittura a quelli con l'applicazione di piccoli strass o con i decori, ad esempio ne avevo addocchiato uno a Poix. E poi vende anche gambaletti, calzini, anche le secret band, quelle anti sfregamento cosce. Quindi insomma anche qui trovate una vasta gamma di prodotti che sicuramente possono fare a caso nostro. Io ho provato anche questa linea perché anche con loro ho avuto modo di collaborare in passato e devo dire che sono molto soddisfatta. Infine torniamo in Inghilterra con un sito britannico che è UK Tights. Tights significa Tals, www.uktyights.com Questo, naturalmente vi lascerò tutti i link in descrizione, nel box, quindi state tranquille se non li afferrate al volo. Qui troviamo tantissima varietà, questo è un sito che propone anche molte altre cose, molte altre tipologie di calze, leggings e molto altro, anche normotaglia, però ha alcune linee, alcuni brand che si occupano proprio delle taglie forti. E quindi anche su questo sito troveremo pane per i nostri denti. Anche in questo caso vedo un'attenzione allo stile, quindi oltre ai modelli classici e basici troviamo anche tante fantasie particolari, tanti colori, addirittura io avevo visto qui le calze a rete per noi, le autoreggenti, le calze con, come si dice, con le paillettes, anzi non con le paillettes, con i brillantini proprio nel tessuto della calza, molto natalizie, che vanno bene per le feste, da sfoggiare nelle feste. E quindi potete andare a sbirciare anche questo sito, anche con loro ho collaborato, e magari poi vi lascio anche l'articolo del blog proprio dove vi parlai dei loro prodotti, così vi andate a vedere anche gli articoli, così potete leggere l'intera mia esperienza e vedere anche le foto in cui indosso i loro collant. Devo dire che anche in questo caso non ho nessuna critica particolare da fare, mi sono trovata bene, quindi ve lo propongo, nella rosa dei quattro shop, dei quattro e-commerce, dove trovare calze collant, curvy e plus size, naturalmente anche UK Tights spedisce in Italia. Dunque, care ragazze, care amiche, io ho fatto questo video perché so che in questo periodo dell'anno siamo tutte alla grande ricerca, alla spasmodica ricerca del collant perfetto. Capisco quanto possa essere difficoltoso e dunque spero di avervi dato, come al solito, dei consigli che possano rivelarsi utili e che possano risolvere un reale problema che noi tonde riscontriamo spesso. Ma questo canale, il canale YouTube di Tondamente, non è solo questo, qui troverete tantissimi altri consigli per lo shopping e poi anche molti post, molti video motivazionali, parleremo di, e abbiamo parlato di body positivity e tanto tanto altro ancora. Vi informo inoltre che il prossimo video sarà un video molto particolare a cui tengo molto perché sarà una collaborazione, la prima collaborazione di un progetto a cui mi sto dedicando per dare risalto alle aziende e ai negozi italiani che si occupano di abbigliamento e moda, taglie forti, curvi e plus size. Ho pensato che forse stiamo parlando un po' troppo di negozi stranieri e che è bene invece andare a sbirciare un pochettino anche cosa si trova nel nostro paese, visto che negli ultimi anni comunque l'attenzione verso di noi cresce sempre di più e quindi spuntano sempre nuove realtà. Ed è bene andare un attimino ad indagarle, andare a vedere di che si tratta e se ci possono essere effettivamente delle cose interessanti oppure no. Come sempre io sarò molto sincera, quindi dirò assolutamente quello che penso. Quindi la prossima settimana mi raccomando tutte sintonizzate perché vi parlerò di un negozio italiano che mi ha inviato delle cose davvero parucce e ve le farò vedere tutte, anche indossate da me. E quindi carissime ragazze, restate sintonizzate, iscrivetevi al canale, non ve lo dimenticate, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornate ogni volta che uscirà un nuovo video. Io sono Valentina, vi mando un abbraccio, un bacio, vi saluto, stay tuned, restate sintonizzate, ciao!